Sicuramente sono entrato ad aiutare i miei compagni, ho cercato di fare il 100%, speravo di fare qualcosa in più, di aiutare la mia squadra a pareggiare, anche vincere. Non è andata così e adesso dobbiamo pensare alla prossima partita e allenarci il 100% ogni giorno di allenamenti. Io mi alleno al 100% a essere a disposizione della squadra, poi il mister decide chi giocare e chi non giocare. Sicuramente lui avrà visto che devo ancora migliorare e sono sicuro che devo ancora migliorare. Mi fido di lui ciecamente e so che lui mi potrà far crescere molto. Sicuramente non abbiamo giocato come volevamo e noi in questo momento, come ho già detto, dobbiamo allenarci bene per giocare bene la prossima partita contro il Pordenone e vincere. Grazie. 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 Grazie.